Benvenuti al Dipartimento d'Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata. Il nome è complicato, ricordaci come dire. Puoi visitarci per essere aggiornato sui nostri corsi di laurea di Ingegneria Informatica Triennale Magistrale e di una neonata magistrale in Ingegneria Bioinformatica e Salute Digitale. 400 sono i nuovi matricolati che ci hanno scelto nel 2017 e i nostri laureati magistrali si inseriscono tutti nel mondo del lavoro in tempi record e grande soddisfazione. Siamo un Dipartimento di Eccellenza per la Ricerca Scientifica dei Docenti e curiamo tantissimi filoni di ricerca. Industria 4.0, che significa fabbriche intelligenti del futuro, visione artificiale per raggiungere la vista e computer e guidare autonomamente i veicoli, robotica intelligente con robot in grado di svolgere compiti di assistenza sociale, sicurezza informatica, computer indossabili per il monitoraggio della salute, applicazioni dell'informatica alla gestione dell'energia e tanti altri accordi. Puoi essere sempre aggiornato? Vieni a curiosare sul sito e sui canali social del video. Se ci segui, sei già parte di noi.